L'istituto Cordella ha omaggiato con una sfilata uno dei più grandi stilisti del Novecento, Christian Diol. La sede di questo prestigioso omaggio è stato l'hotel Barceló Aramantegna di Roma, nella serata del 1 febbraio intitolata Fashion in Action, ideato e prodotto da Riccardo Gubiani e condotto da Giorgia Viero ed Emilio Sturla Furnò. Fiori e petali sono il leitmotiv dei giovani allievi della scuola. Gli abiti sono stati realizzati con oltre due chilometri di tulle, 2.000 cristalli, 20 metri di ruche in moulage e 50 di organza.